... Scusate Dovete sapere che al sud le ferrovie sono assolutamente inesistenti, se uno da Napoli vuole andare a Foggia non ha manco un pezzo di ferrovia, questo tratto di ferroviario è uno dei più moderni che c'è in Italia Forse anche suo padre, niente, avrebbe calpestato un guardo E l'abbiamo capito che per uno sporco stipendio non è per ideale Perché se aveste degli ideali dovreste essere giro per l'Italia Perché in questo stesso momento in Italia stanno facendo stupi, rettini, esposioni Una volta lasciate parlare meglio per così No che servite, santi Dio Ma vi rendete conto che credete che il nemico siamo noi? Sareste da licenziare per giusta causa, per inefficienza Grazie